Il fenomeno dei rifiuti è un po' l'oro di questi anni che stiamo vivendo. Come diceva un noto camorrista, i rifiuti sono oro, la monnezza è oro. La monnezza è diventata oro anche nel nord-est, anche in Veneto, perché è un affare oggi su cui girano soldi, tanti, tanti soldi, sia che siano, come dire, traffici leciti, ovviamente a maggior ragione, soprattutto quando sono traffici illeciti. Essendo in ballo interessi economici enormi si dà fastidio, e quando si dà fastidio è possibile che ci sia qualche effetto collaterale. Diciamo che nella mia esperienza è capitato di ricevere, come dire, minacce più o meno velate, qualche volta proprio palesi e qualche volta più occulte, perché poi, come dire, c'è la minaccia fisica ma c'è anche quella indiretta che forse è quella più pericolosa. Ci sono due categorie che pagano il prezzo molto caro. Sono i lavoratori che spesso sono sfruttati e in condizioni non note. Io dico solo questo, abbiamo un fenomeno di malattie professionali, di infortuni in questo settore che cresce in maniera esponenziale e senza freni per le condizioni di lavoro. Quindi i lavoratori pagano un prezzo molto caro, l'altro prezzo lo pagano i cittadini e lo paga anche la collettività, perché fare affari illeciti sui rifiuti vuol dire fare non solo un danno, come dire, alla cosa pubblica, ma fare un danno anche alla salute pubblica, quella nostra e magari anche e soprattutto quella delle generazioni a venire. Grazie.